Tappa all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi per il deputato del Partito Democratico Piero De Luca. L'esponente Democrat in mattinata ha visitato lo scalo salernitano per fare il punto della situazione con gli amministratori locali e i vertici della società di gestione. È notizia di qualche ora fa che l'Enac, grazie al progetto di fusione con la GESAC di Napoli, ha attribuito all'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi 4.500 nuovi voli di aviazione generale da ottobre di quest'anno. Quindi l'anno prossimo avremo 4.500 nuovi voli che si aggiungeranno ai 1.900 di quest'anno. Quindi quasi 6.500 voli che potranno transitare e transiteranno qui nel Salerno Costa d'Amalfi la prossima stagione. Insomma numeri importanti che danno il segno della battaglia che stiamo portando avanti da qualche mese ormai affinché questa infrastruttura davvero possa decollare. Manca ancora, come abbiamo rilevato in più occasioni, l'autorizzazione di Toninelli sul progetto definitivo di allungamento della pista. Sono qui oggi a testimoniare la mia vicinanza al Presidente della società Antonio Ferraro, al Consorzio, ma a tutti gli operatori di questa infrastruttura. Non mollerò di un millimetro. Solleciterò il Ministro affinché firmi il prima possibile l'autorizzazione e quindi sblocchi l'avvio dei lavori che devono partire necessariamente entro il 2019 per non perdere i 40 milioni stanziati al decreto sblocca Italia di Renzi destinati proprio all'allungamento della pista. Noi inizieremo ad avere i voli commerciali perché fino al 2023 noi avremo, fin quando i lavori sulla pista non saranno realizzati e quindi si determinano le condizioni per ricevere anche i voli commerciali, noi avremo le infrastrutture esattamente come sono oggi potenziate per assicurare l'esecuzione dei voli in perfetta sicurezza. Successivamente si starà pensando poi dopo all'implementazione anche asservita alle nuove tecnologie per quanto riguarda le torri di controllo e quindi ci sarà un'estensione congiunta ed armonica anche con il potenziamento delle infrastrutture su Napoli. Limiti non ce ne sono, in questo momento limiti per lo sviluppo futuro di questa infrastruttura non ne vediamo.